I presidi Slow Food sono un simbolo. Come il panda del WWF, il simbolo del presidio sta contraddistinguere un sistema di ricoltura diverso, innovativo, che abbia rispetto della biodiversità e del basso impatto ambientale. L'alleanza tra i cuochi e i presidi è quel progetto secondo cui più di 500 cuochi in Italia adottano, diventandone in qualche modo ambasciatori, i presidi nei loro menù. La mariola è uno dei più vecchi salami della bassa parmense, è un po' il progenitore del cotechino. I pomodori antichi di Napoli sono quei pomodori che sono stati scoperti in campagna circa 200 anni fa e che erano in via di estinzione. La razza piemontese è quella razza nata circa 150 anni fa e che esalta le proprietà della carne. Il presidio degli oli Slow Food invece contraddistingue quelli raccolte da alberi millenari da varietà autotone italiane. La vacca bianca modenese è invece una razza in via di estinzione che era sempre stata usata con duplice attitudine, carne e latte. Fico diventa un grande alleato dei presidi Slow Food. Venite non mancare per scoprire prodotti sostanzialmente introvabili.